16 anni di carcere, questa la decisione dei giudici del Tribunale di Nocera Inferiore per il delitto di Maurizio Fortini, l'infermiere del Comune dell'Agro, ucciso a coltellate da Davide Sansone Giancane. Per l'imputato Reo Confesso è stato riconosciuto l'omicidio volontario con l'aggravante di aver commesso il delitto in presenza di un minore. I fendenti fatali infatti furono inferti al termine di una lite avvenuta nell'abitazione dell'ex moglie dell'omicida in via Origlia alla presenza della bimba. Secondo la ricostruzione processuale Sansone perde la testa quando trova l'infermiere in casa dell'ex e della figlia. Fortino prova a nascondersi in bagno ma è tutto inutile. L'omicida impugna un coltello da cucina con cui lo colpisce all'addome e alle spalle. La vittima riesce a divincolarsi salendo sul motorino per allontanarsi poi dall'abitazione ma le ferite sono troppo gravi e morirà poco dopo. Sansone invece si allontana sconvolto dal luogo del delitto e viene fermato nei pressi di Piazza Mendola con i vestiti ancora sporchi del sangue di Fortino. Motivi passionali dunque dietro il delitto. Oltre ai 16 anni di reclusione riconosciuto anche un risarcimento danni alla famiglia di circa 400 mila euro. La difesa ha annunciato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale Nocerino.